Ciao riders e tutti amanti del surf! Vi volevo fare auguri di buon anno e farvi un regalo. Ho realizzato un sticker pack con una mia amica illustrator che vive a Kyiv. Abbiamo realizzato questo sticker pack pensando al tema di surfing. Potete gratuitamente scaricarlo seguendo il link in descrizione e questo sarà il mio regalo per voi. Potete scaricarlo e poi a stampare questi sticker. Se volete sostenere il mio canale potete fare una piccola donazione anche per la donazione lascio un link in descrizione. Da qualche anno sto facendo questo blog, parlo del surf, sono le cose istruttive, a volte sono divertenti e ho deciso che posso provare a monetizzare e fare il content più spesso e migliorare. Con vostro aiuto potrò fare. vi auguro di nuovo una buona giornata e buon anno. Grazie! Grazie! Grazie!